Bene ragazzi, sono Ben Wolfers e come vedete siamo tornati su Rocket League con un gol istantaneo! Dopo un secondo ragazzi! Dopo un secondo! Mai fatto un gol più veloce di così! Porco Giuda! E qui abbiamo avuto una fortuna incredibile, altro che calcolato, una fortuna incredibile. Però non possiamo certo dire che la partita si mette male, anzi, riproviamoci subito, facciamo un buon primo tocco, ma solo questo. Non si può avere tutto alla vita, se tu la tocchi male... Eh, 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 peccato, peccato, ci stavamo... Eh, cosa sei tu? Non ci spera proprio, mamma mia della sforbiciata qui che non va! No, che gol che ha fatto! Ha fatto un bel gol, c'è poco da dire. Qui peccato perché eravamo riusciti a contrastarlo, eh ma qua no! È stato bravo, bravo, bravo! Ha fatto un gol con il colpo dello scorpione! Già un a uno ragazzi, dopo così pochi secondi! Incredibile! Qui saltiamo un attimo perché non ci siamo fidati del compagno, lo ammetto senza alcun problema! E sto tiro? Eh, 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 l'abbiamo corretto bene! Bel passaggio e grazie! Qui mi aspettavo un bel intervento del portiere, non pensavo la parasse così bene, ma ci siamo buttati alla grandissima! 2 a 1 ragazzi! In 31 secondi già tre gol! Che match! Che match ragazzi! Bocca dal centro, no eh! Mai nella vita! No, l'abbiamo lisciata! Uh, mamma mia! Uh, mamma mia! Eh, questo la toglie! Eh, questo la toglie, purtroppo! Non ci sperate proprio! Perché non ci devi sperare! Ah, tu la togli! Che peccato! Avevo fatto un'azioncina veramente garbata! Eh, hai fatto una cazzata? Sì, ma tu no invece! Toglio, toglie, 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 toglie! Togliamo! No! Eravamo riusciti a fare una sforbiggiata bellissima se l'era tolto da solo il gol! Perché guardate qui che parata che si era fatto! Avevamo fatto una sforbiggiata stupenda, ma niente da fare! 2 a 2! E' una partita piena di emozioni! Andate pure, che sto io in difesa in questo momento! Quello lì non credo possa mai tirare! E mi ha buggerato allegramente! Me l'ha proprio preso e buttato! Guarda là! Qua si è andata a litigare pure! Mamma mia per quanto! Mi aspettavo una palla sollevata! Non giocata in quel modo! 2 a 3! Ce l'hanno ribaltata! Vediamo adesso di non rendergli la vita altrettanto facile però! Perché non è possibile che questi qua in un minuto siano riusciti! Oh mamma mia che stava a fa' A ribaltarla così! Tu la risci pure? No eh! Io ci ho sperato! Lo ammetto! C'è il portiere questa volta sì! C'è il portiere questa volta sì! Andiamo a metterla in mezzo! Dai con la pallina in mezzo interessante! Non si è buttato nessuno! Ah qui! Ho un problema di fiducia! Non si sono fidati di me! Che ci può stare anche! Perché per carità ci può stare! Oppure semplicemente non si aspettavano l'azione! Che comunque è un problema di fiducia secondo me! Oh brutta brutta brutta! Stiamo completamente senza turbo! Mamma mia sta palla! E dove è andata? Eh! Tiriamola così! No! Che peccato! Noia parata! Oh ragazzi! Questa partita qui è... Boh! E mamma mia questa partita qui! Guarda che bel tiro! E qui non ci ho creduto io però! Ributtiamola al centro! E la para! La para! Porco demonio! Potrebbe essere un gol bellissimo! Di quelli proprio che ti togli la maglietta! In questo caso la carrozzeria! Qui la palleggiamo! La ributtiamo in mezzo! Dai che questa volta ci sei! Traversa! Ci manca un palo! Che sicuramente arriverà con l'azione successiva! E no! Non è palo ma quasi! Scusa compare qua! Mi sa che ti sono venuto un attimino addosso io! Ok! Qui hanno preso... Eh! Eh! No! Liscio di tutti! Liscio di tutti non va bene! Liscio di tutti non va bene ragazzi! Scappiamo in porta praticamente! Eh! La colpisci! E la giusti! E la giusti! Mamma mia! Stava anche andando addosso al compagno! Che segna! Facciamo un assist che non ci sta mai nella vita! Perché boh! L'abbiamo toccata qua! Sì! L'abbiamo toccata qua! E quello va a segnare 3 a 3! Per fortuna! Aggiungerei! A 1 minuto e 42 dalla fine! Direi che abbiamo tutto il tempo per fare gli altri gol! Dai dai! Che questa qua la vogliamo vincere! Eh! Mamma mia! Quella abbiamo colpita male! Ma proprio male male male! Aiutatemi a di male! Questa volta ci sono! Ma la palla no invece! La buttate di qua! Eh! Bello! Per quanto è adesso non ci sta nessuno! Però ci sto io! Che la allontano bene! E se tu la lisci! Non la lisci! Perché io subito mi devo vedere le speranze distrutte! Mamma mia! Questa azione è buona! Non c'ho turbo! Ah! Compagno qua però! Gentilmente! Parala! Bravissimo! Qui non c'ho turbo mai nella vita! La para! La para qui! Dannazio! Non ci piace neanche il turbo! Che brutto intervento che abbiamo fatto! Eeeh! Abbiamo sbattuto male! Ok! Ok! Togliamola assolutamente! Ma proprio assolutamente! Qui la palla sta viaggiando bene! Sta viaggiando male adesso! Sta vengendo nella direzione giusta! Ma non faccio in tempo a parlare! Che brutto tiro! No! Non ci piace! Quanto non ci piace! Quanto ci piace questo? Quanto ci piace questo? Quello la colpisce sicuro! Ma è colpita forte ragazzo! L'ha colpita forte! E traversa! Traversa! Non ci si crede! A 10 secondi al termine! Parala ragazzo! Parala! Meno male che l'hai parata! Perché qua la situazione è brutta! La situazione è ancora più brutta! Mamma mia! Tempi di sperimentali meritatissimi da parte loro! Perché sono meritatissimi! Colpisci la tu che in caso la colpisco io! Cosa non vera! Cos'è sto liscio! Cos'è sto liscio! Uh che peccato! Beh a questo punto direi di farci tutto quanto il campo! Prenderci questo turbo! E anche quest'altro! E qui gettarci assolutamente sforbiciata! E meno male che l'abbiamo fatto! Quello lo togliamo così! Eh sta palletta l'hai colpita! E anche benissimo! Che intervento difensivo ragazzi! Qua ne posso fare fuori gioco 2! Mamma mia! Cosa ho visto! Togliamo assolutamente questa palla da qua! Ah proprio assolutamente! No! Ho colpito lui il temo! Ho colpito lui me? Eh! Bella domanda! Eh! Ok! 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 Qua stanno già tutti quanti in volo! E io arrivo povero stronzo a piedi invece! Cosa mi ha colpito qui? Non andiamo! Tutti sulla stessa palla! Dannazione! Tu non ci spera mai nella vita proprio eh! Tu che fai? Non la colpisci! Non la colpisce nessuno! L'hai mandata nella parte sbagliata! Non ci piace! Ok! Potete gentilmente spazzare via questa palla? Grazie! Grazie! Gentilissimi! Apprezzo tanto! Stai andando nella direzione giusta! Non ci credo! Di nuovo ragazzi! Quante occasioni mi sono mangiato in questa partita! Tantissime penso! No! No! Ma santa pazienza! Che peccato! Che peccato! È una partita bellissima! Qua purtroppo si è fatto fregare proprio alla grande! E Penciu ce l'ha penciolato ben bene! 3-4 per loro! Però bella partita! Mi sono divertito! Spero sia piaciuta anche a voi! Se è così è lasciate un like! Commentate! Condividete! Ed iscrivetevi! Per vedere video nuovi ogni giorno! Grazie! E alla prossima! Ciao! Ciao!